il carrossi è successivo, la prima partita che facciamo è successivo, quasi germani non c'è che sono 17 carrossi però il giorno è che sono 17 carrossi vieni 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 ma viene avuto ma che la giocatore già cominciò a fare, non so che la giravo io ah! grande Robi! lì tra scuola i conti e la facciamo un po' dai co! eh tramite come una merda che vuoi portare giù un po' signore! signore! capri! capri! testa lì! non devi aspettare! non devi aspettare! aspetta non la peggio! va vieni co! c'è questo mazzacolo lì! c'è questo mazzacolo lì! lì c'è! a trovare qua con le due volte no? no! l'acqua giù! l'acqua giù! eh eh! c'è questo mazzacolo! non è so, non partire vent'ora prima! son venire o non, si sono venire! mi arrivo tutti il calzettore! domenica non è te! no! non faccio più! non faccio più! ci sono proprio più! uno... uno... ma è vinto 10! Guarda, vediamo così vanno questi due. Stando fuori, stando fuori, tutta la fuori Alè, stando fuori! Ragazzi se non si sente bene, oh! La testa Alè! E ho detto che ad ogni modo fa sempre il stesso errore. Ma stanno vicini che tiama! E non staici. Ma io ci faccio proprio provare polvazzi. Vabbè ora siamo visti che non te ne scopri, non fa niente dai, si scade l'arbrea, eh lo so hai ragione, l'hai vista, la vedessi la palla, la trovo, la trovo, la trovo, la sotta , affinatata , non ha resso niente dell'intervolezza, non o si sono esette, non arrino. S Philippi ad muito manuticoadas, e digo que o al iero becomes roma, il impermeabilito que emoziones stata reumona, e se ve sei anda, e se ve sei andata te dai cosi boh dai 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 che boh va bene dai dai giallo ci puoi pigliare a sapare bravo spesso lo visco dai 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 cercare sono due qua dove è dietro guarda atto Vieni lì, occhio e sorriso! Vieni lì, vieni col palesterno! Hai capito? Mo, 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 mettete col palesterno! Vai che passa qua! Un ruolo, sei solo! Sei solo! Muntalo, puntalo! E' col di palesterno! E' col di palesterno! Allaggiano! Antonio, no, qualcuno! No, no! No, no, no! Davi, davite nulla assa! Stavate che c'è il giavarino! Bravo! Davvero qui! Dai, vai giù, bravo! Dai, va bene, dai, va bene! Una c'è! Dai, dai, Domenico! Dai, stai a giù! Dai, stai a giù! Dai, Maria! Oh, dai, te con due! Ah, non te pezzo qua! Ah, non te pezzo qua! Tu, come stai a girare? Non te pezzo qua! Viciò! 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 Attacca! No, no, fa la girà, fa la girà, fa la girà! Oh! Sali! Oh! Uomo! 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 Sali! Che dà? Sali! Che dà? Via, via! Vieni, Vito! Vieni! 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 Vieni, ma gli ho messo lì, lì è passato lì ma perché ti dice che non c'è nessuno? non c'è nessuno che dà che cosa sta giù? che cosa sta giù? oh 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 non ti ha fatto i mani sulla fine eh è difficile è il numero ma ti sento all'interno andò dai 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 era dai dai scherzi sali sali eh chi si piglia la palla al loco vinto me vinto me vinto me calmo ancora ancora vai a sola vai un po' regà la pucata vai co vai co uff 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 salta salto 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 uff 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 su uff 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 Grazie a tutti 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 Uno che si Grazie a tutti 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 Largo Grazie a tutti 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 Andiamo per Grazie a tutti 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 Arbitro Grazie a tutti 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 Occhio Grazie a tutti 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 Vai a tutti Grazie a tutti Staccati Grazie a tutti 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 Grazie a tutti